Non c'è mai come parla E perchè non mi parla Cucino 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 Adesso si sta inserendo un po' ... lei come tucano? Delon d'acqua? ma tu puoi uscire? e te l'acqua ti puoi uscire? no, devi uscire! è una preschia animale te l'acqua non so per me la scatola per me si stessa per risarmi quando ammazzina parte in fronte alla moto per me per me la sua parte roma passavamo c'è un'altra domanda come io ho dato l'ora c'è chi si tratta di un'altra io ho capito questa è stata un'altra domanda la domanda per me ma non è un po' cimbi non è una cosa il mondo non è una cosa per te ma perchè potete non andare se ti è davvero il vicepreso allora è una cosa che mi piace si è un'unica cosa qua accendino qua accendino qua accendino vince non me ne ti fai un'altra cosa ecco il fotografo quando è tutto lento che ci vengono la differenza del volante la cosa è la mia idea di un'altra cosa il salario che è la mia vita il suo lavoro l'amore come dire la città c'è il fatto di la città l'arrivo non è ruvinato ma è caduto, guarda adesso che faccio ma perchè ti rende paura? ti rende paura? ti rendo paura e perchè ti rende paura? Dany che si diverte a giocare al cellulare e a gt se non cazzo insultate un altro po' che il video è lungo vedi le vostre ragazze insultate un po' insultate un po' insultate un po' fai sentire sei un zappatore mamma ti sa pibici mamma ti sa pibici mamma ti sa pibici mamma ti sa pibici mamma ti diavici i cm daji si metti un duda mamma ti è fatto come immagino miTH ma sono un bosch mi è fatto lui mamma ti avere unzo ma ti aiuta con il gizil e mamma ti sei fatto come ma ritieni e ti cosa mettere ti sono messo il trattore i sacbi non si mette il trattore all'arquino ma quando si creatura si mette il trattore all'arquino non si mette il trattore all'arquino e noi si fessi e noi si fessi si siengrossi e fessi zappatore e fessi zappatore attagliare battagliare per dimana i compiti dei tuoi per dimana andata e sul 100 grammi di legno andata buona mamma non almeno il tetto almeno il tetto almeno il tetto almeno il tetto il tetto non ha capito a te vado di chi è qua ma non si è vado a domanda cammini chi è qua accaduto conosco trovato non conosco conosco una parola mi sapevo quando quando la domani se aiuta a prestiti so con lo scopo qua no, senti il freno senti il freno ma si soffrono io sono un zappadonna zappa 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 io non lo potete vedere, non è? dammi a lei mannaggia buba e ci manca lo scelgo zappa questo qua è tuo nonno sai che è fatto sai che invece è mamma parla della gamba parla della gamba parla della gamba nonno di Alecchia il frattore di Alecchia come lo mettete in vag ma mamma Are Krishna come si fa così Are Krishna oh questo qua è il fratello e ora mettete in vag oh mi foda fratello mi foda fratello questo è il padre fratello e questi sono tutti i seguitini questa è mamma non è vero non vuoi essere scambi la mamma se c'è scambi la mia non ci sono i familiari 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 di noi chiama e la non noi stai mo